secondo voi ma me cosa mi frega secondo voi ma chi me lo fa fare buonasera siamo in diretta se volete accomodarvi che c'è anche il caffè la trasmissione è cosa è successo in città oggi i giornali scottano possiamo dire anche i titoli giornali che sfogliamo da oggi io ho sfogliato adesso non facciamo delle false ironia l'informazione qui non viene distorta hai più voci che raccontano la stessa informazione della diversificazione dell'informazione addirittura non cambiano neanche le foto sui giornali effetto giornale eccolo effetto giornale volevo chiudere questo questo inciso e poi passiamo a altre notizie attraverso i bar stiamo costruendo un po la storia di questa radio è un mondo molto geek molto nerd lei vicky piero da buon viaggiatore posso dire deve allora curatevi non te la trovo la canzone l pione io vicky piero